Il voto è, come si suol dire, sedimentato. È arrivata anche questa fantomatica sezione 37. Per iniziare con il sorriso deve sapere che c'è una pagina Facebook dedicata a questa sezione. Ma che è successo? Ma è successo che non c'è stata sufficiente lucidità da parte, credo, del Presidente e a un certo punto non sono riusciti veramente a contare le schede, a tirar fuori i numeri giusti. Cose che possono succedere, peraltro, non dovrebbero, possono succedere. Quindi, alla fine, tutto è ritornato nell'alvio della normalità. Dopo 12 ore le urne sono state chiuse con le schede dentro, portate in tribunale, il tribunale ha fatto lo spoglio e ci ha dato ieri sera tardi i risultati. Comunque, tutto a posto. Ma, tra l'altro, mi pare anche che non abbia spostato un granché, sta a 37esima sezione. E quindi mancava soltanto questo per avere i numeri definitivi e forse anche, questo non lo so, se ha cambiato qualcosa nelle presenze consigliari, se ha spostato qualcosa nel numero di voti dei vari partiti per cui c'è forse uno che è uscito da una parte e è entrato dall'altra. Non lo so, potrebbe essere stato, ma niente di grave, niente di importante. Una cosa la dico però perché non è il solo caso di presidenza che ha avuto dei problemi. Io ho scritto una lettera questa mattina, anzi ieri sera l'ho firmata, al presidente del tribunale riportando questi due problemi. Uno si è già risolto perché il presidente, la presidente si è dimessa e quindi non sarà presente al ballottaggio. Nell'altro caso vorrei che ci mettesse la testa, il presidente, le mani e sostituisse chi non è stato in grado di risolvere certi problemi. Non glielo posso dire perché è riservata la cosa, però è parso evidente a chi è andato a fare i controlli. Effettivamente c'è stato un afflusso anche dei dati, delle sezioni molto lento, quindi è un problema un po' generalizzato. Sì, un problema un po' generalizzato, forse, io non lo so, c'è stato un forte ricambio dei presidenti, che può essere questo. Quindi la prima esperienza da presidente non è semplicissima. Vuoi per il carico di responsabilità, vuoi per certe difficoltà interpretative del modo di votare, forse anche rappresentanti di lista particolarmente agguerriti e aggressivi. Non lo so, sto facendo delle ipotesi, ma me le posso anche immaginare, perché io non sono mai stato presidente di seggio, ma ho fatto il segretario a una persona che mi era cara e che aveva deciso di fare presidente di seggio e che se non c'aveva a me che gli ricontavo le schede, ogni quattro ore forse qualche problema l'avrebbe avuto. Ma insomma, questo lo vorrei anche un po' smitizzare, questo problema. Dai, sono elezioni. La cosa che un po' mi rincresce è che ancora si voti su due giorni, che ci riporta nuovamente nel medioevo del sistema di voto. Tutto il mondo ormai vota in un giorno solo e vota con internet e noi votiamo su due giorni. Questa è veramente una cosa che non ci fa onore come italiani. Veniamo ai numeri. I numeri vanno letti in maniera così, molto intelligente, nel senso che per quanto la riguarda ovviamente sono premianti, non vincenti, ma premianti. Come si dice, siamo arrivati a Roma e non si è visto il Papa, come si dice. Va bene, lo vedremo tra dieci giorni. Sono premianti perché c'è stato un forte incremento. Io ho ottenuto più di 5 milioni di voti in più rispetto al 2015. E questa è veramente tanta roba. Io sono contento e ne ringrazio infinitamente i cittadini che mi hanno votato e che quindi hanno riconosciuto che il governo di questa città negli ultimi 5 anni ha portato dei cambiamenti positivi per gli aretini, minimizzando tutti gli stress che gli aretini hanno avuto addosso per vari motivi che non stiamo a ricordare. E quindi io sono contento. Certo, mi avrebbe fatto più piacere non dover stare ancora 15 giorni a proporre la mia idea di città, al mio piano, e a contrappormi personalmente a questo punto con Luciano Ralli. Però va bene, fa parte del gioco, si gioca ancora per dieci giorni. Avrà da fissare qualche appuntamento nella sua agenda nei prossimi giorni? Uno, abbiamo capito che non lo fisserà, che è quello con Fabio Butali. Non è che non l'ho fisso io, non l'ha voluto fissare lui. Ha detto io faccio accordi con tutti, meno che con Ginelli. E io che gli devo dire? Allora la porta è chiusa, no? Con gli altri non abbiamo... ci vediamo stasera con la maggioranza, faremo un ragionamento. E poi sono possibili delle condivisioni, sono possibili delle condivisioni che poi alla fine molto parte dei programmi è sovrapponibile. Quindi io credo che alcuni candidati hanno avuto un elettorato che per certi versi, mancando il loro riferimento come candidato a sindaco perché ormai si sono rimasti i rally, forse preferirà scegliere Ginelli invece di rally. Però ne dobbiamo parlare. Insomma, ancora presto per fargli la domanda se inviterà Donati a un caffè o no. Ancora presto, comunque sì, lei ha detto, dice, ci saranno di nuovi incontri nella sua agenda. Ecco, se ci saranno, non saranno nella mia agenda, ma saranno assolutamente riservati.